Vado alla domanda di Daniele. Ciao amici di Radio Blast. Vorrei approfittare dell'invito a rivolgere domande per la diretta di oggi. Questo è quello che vorrei chiedere. Da cristiano, che ha un'età di 28 anni, mi sento oggi molto in difficoltà perché il Signore mi ha messo in cuore il desiderio di costruire un matrimonio, nel modo in cui Lui lo vuole, facendo tutte le cose nel modo giusto, fin dalla conoscenza iniziale e passando per il fidanzamento. Questo modo di fare, però, è oggi sconosciuto al 90% dei miei coetanei, a cui interessa solo l'aspetto fisico, il sesso, il lato emozionale. E vorrei quindi chiedere qualche consiglio e anche magari riferimenti biblici per vivere meglio questa situazione un po' di solitudine. E anche su come potersi avvicinare a una ragazza nel modo cristiano e non nel modo del mondo, nel caso in cui avessi la possibilità di conoscere una ragazza cristiana con certi valori. Grazie molte e che Dio vi benedica grandemente. Grazie a te, Daniele. Una bella domanda e credo che questo sarà utile anche per tanti altri giovani che ci seguono. Fratello Giuseppe, come si fa ad avvicinarti nel modo giusto a una ragazza che ha valori, perché lui cerca una donna con valori. Finché aspetta di incontrare la ragazza giusta, come passare questo momento di solitudine nel modo migliore? Guarda, io comincerei a chiedere a due ragazze, che voi siete due donne, quindi com'è che vi piacerebbe che un uomo vi approcciasse se voi cercaste un fidanzato o un marito. Parlare di Gesù, per me. Gesù, Gesù, la parola, nient'altro. Sì, ma tu sei troppo spirituale. No, ma mi annoierei se non parlare di Gesù. Angela, aiutaci, tu è come un uomo dovrebbe comportarsi. Io pensavo che dobbiamo fare tutti noi, single, dobbiamo fare come Karen. Io non lo so, io neanche ci penso. Io non sto qui a pensare come deve approcciarmi un ragazzo, non ci ho pensato mai. Non è che sono tutti spirituali come te, qualche donna vuole sposarsi anche. Ma non sono spirituale, solo che non vale la pena stare lì a pensare tutti i giorni, ma quando arriva il ragazzo giusto, il principe azzurro, devi godere la vita come fa Karen, è un esempio. E questo è il segreto. Lei è libera, non si preoccupa. Sì, è libera, è libera. E proprio l'altro giorno parlavamo con Angela di matrimonio e tutte e due dicevamo, ma il tempo è così corto che veramente dobbiamo lasciare che il Signore fa le cose, perché se no non c'è tempo. Ok, noi pensiamo... Infatti il primo conizio 7 dice chi è singolo non c'è chi di sposarsi, chi è sposato non c'è chi di essere singolo, il tempo è corto. E dopo come tu andavi, per me tu sei un esempio bellissimo, andavi avanti per Gesù, evangelizzare le pecorele e dopo il Signore ha fatto le cose sovranaturali, è venuta Deborah. Sa 49 anni. È venuto a te, però lei ti ha proposta, conoscete tutte le storie di Giuseppe e penso che questo è il modo migliore. C'erano dei trascorsi prima, ma questo è quello che il Signore ha fatto. Quando il Signore si è mosso è stato a 49 anni. Prima mi muovevo io e non ho mai funzionato, però ha avuto la fede di andare avanti per Gesù e le decisioni sbagliate sono crollate. Però con Deborah era il Signore, è come Isacco, Giacobbe, Abramo. Penso che quando uno è con cuore pieno per Gesù e vuole dedicarsi 100% a Gesù, non è che cerca queste cose. E il Signore ti metterà anche la prova, eh? Eh sì. Arriverà la donna tutta sexy, sbagliata, magari anche cristiana, tra virgolette. Magari lì fedela, scaldare la panca, cantare alleluia e poi magari invece sono guai neri. E la donna, l'uomo, dipende, io parlo da uomo, però ci sono altre parti lo stesso. Sì, sì, sì. E poi credo che quello che dobbiamo fare è avere la pace nel cuore, nella situazione nella quale ci troviamo. Se sei sposato devi avere la pace e fare il tuo migliore per avere un buon matrimonio, una famiglia felice. Se sei single, fare il tuo migliore, do your best. Fare del tuo meglio. Fare del tuo meglio per essere una buona seguace di Gesù e non pensare sempre come potrei cambiare la mia condizione, avere quello che non ho, perché non ho qualcos'altro. Questo ti torturi per niente, non vale la pena. Quindi godere quello che tu hai in Cristo, vai avanti per Gesù, poi se le cose cambiano nel futuro va bene, se no è lo stesso, è uguale. Perché se sei singola e non sei contento che sei singolo, vorresti il ragazzo in gamba, vuoi qualcosa che non hai, invece di rilassarti, se Dio lo vuole mandare, lo manderà. Allora con lo stesso spirito di voglio, voglio, poi ti sposi e il marito dopo un mese di ubriacatura, di eccetera, luna di miele, capito? E luna di miele facilmente diventa luna di fiele, se non si va per Gesù, capito? È sempre così, non importa quanto è bella la donna, l'uomo. E allora cosa succede? E lui dice, sì, mio marito qua e là, però ne ho visto uno. E c'è incontrato uno che è stato così gentile, così dolce, oh se fosse quello mio marito, oh sì sì. Cioè quindi così come eri frustrata da singola che volevi, e dopo da sposata continuare, perché il problema è la frustrazione, il volere è la cosa che non hai. È l'atteggiamento al problema. Per questo è Dio donato il comandamento, non desiderare la moglie degli altri o il marito, l'animale degli altri, le bue degli altri, l'asino, la casa, il denaro, non desiderare. Infatti sì. Quindi Dio non è che dice non fare adulterio, si lo dice anche, ma prima di quello dice non desiderare. Cioè quando dice l'adulterio già hai superato tutti i limiti, non desiderare, e poi fermare il diavolo a livello di desiderio, questo che parlavamo di Karen, vedi come lei a livello di desiderio, lei dice no, Gesù è libera. Sì. Con quanto amore si prende cura della mamma, si prende cura della mamma. Sì, sì. Va bene? Una donna così ci sono pochi uomini che la meritano. Che la meritano una donna così? Ma ce n'è uno su un milione. Una donna come Karen, ma caro mio, ma vada, ci vuole il cannocchiale telescopio per trovare un marito che merita una donna così. E di fratelli e sorelle così ne abbiamo parecchi. Sì, grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Volevo aggiungere che un paio di settimane fa ho sentito una piccola testimonianza di Nick Wojcic sul matrimonio. Ma lui in Wojcic c'è quel serbo che vengono a evangelizzare in tutto il mondo e non ha braccia e gambe. Sì. Ed è un grandissimo, uno dei più grandi evangelizzatori, Nick Wojcic. Lui si è sposato recentemente, recentemente, alcuni anni fa. Una bellissima moglie. Sì. E lui diceva che se non sei super felice solo con Gesù quando sei single, non sarai felice quando sarai sposato. Esatto. E' una statement, se c'è una... Un statement. E' una affermazione molto profonda. Una dichiarazione. Ed è vero questo. Se Gesù non ti basta quando sei single, quando sarai sposato, ci saranno altri problemi che Paolo ha detto in Pimoccolinzi 7. Devi preoccuparti delle cose carnali. E dopo, se non sei felice solo con Gesù single, non sarai felice da sposato. No, e Gesù dice, se non sei felice nel poco, non lo sarai nel molto. Sì. Cioè tu credi... Ma se... Fratelli che ci ascoltate, sorelle, sorelline adolescenti che mi seguite, fratelli giovani, siete sicuro che sposando quella donna di Hollywood che avete visto il film, che sai quella donna perfetta che baciava così bene nel film, con gli occhi scioccanti, o l'uomo, siete sicuri che vi farebbe felice? Guardi, io ce l'ho risposta. Andate a Hollywood. Andate a vedere che razze di debosciati, pervertiti, che sono questi qua che vedete nei film. Sì, sì. Ci sarà l'eccezione. Che mi pare, Caterina, mi dicevi, Caterina, Catherine Z. Jones, che è Michael Douglas, che sono una buona coppia, mi dicevi, no? Che lui sta morrendo di cancro, lei, una delle più belle di Hollywood, è rimasta al suo fianco, gli ha dato diversi figli ed è fedele. Ma una così, però, a Hollywood sarà una su... Sì, ha interrotto la sua carriera, non ha fatto più film. Ha interrotto la carriera di lei, la propria carriera. Sì, per prendersi cura di lui. Per prendersi cura di questa qui, grande suo premio è in cielo. Questo non è come tanti attori, attrici che vanno in giro a fare opere umanitarie, che è più fumo che arrosto, per farsi fare le foto. Questo si prende cura della sua... Quella è la sua missione. Va bene? Voglio dire che... Questo voglio dire a Daniele. Se io sarei nel mondo, anche cristiana, con Gesù nel cuore, ma non mi darei da fare per Gesù, probabilmente che anche io penserei sempre, ma quando troverò mio principe azzurro, dove lo trovo, dove lo cerco? Perché quando non hai niente da fare, pensi sempre a te stesso. Quindi il segreto è di darci da fare per Gesù, evangelizzare, essere occupati. Il principe azzurro è già arrivato, il principe azzurro. Per me è arrivato, sì. Caspita, il principe azzurro, caro mio, ce n'è solo uno. Sì, sì, sì. È Gesù. Il principe azzurro è già qui, stiamo cercando il principe azzurro. Non ce ne sono il principe azzurro. Cioè, sono solo principi peccatori. Quindi il segreto è di evangelizzare. Essere occupati da mattina a sera, aiutando qualcuno, dando la salvezza, vedere vite cambiate. Guarda, non ti interessa più niente altro, perché questi miracoli ti danno una forza, una gioia, che un uomo o una donna non possono darti. La felicità non viene da un'altra persona. Ma neanche se volessero. Neanche se volessero, perché non possono. Sono limitati come io sono limitata. Io non ho la capacità di essere la donna che un uomo sogna. Sono con i miei limiti, peccati, problemi, debolezze, anche cose peggio. Quindi la felicità non viene dal compagno, dalla compagna. Tutti voi sposati potete confermare questo. Ma la felicità la trovi nel tuo cuore, tu e Gesù. Gesù abitando in te, dimorando in te, ti dà quella gioia e felicità. Quindi è quello che dobbiamo sviluppare nella vita. Non concentrarci tanto dove trovo l'uomo giusto, la donna giusta, ma concentrarci come ogni giorno sviluppare la mia relazione con Gesù. Poi sì, lo so che ci sono anche bisogni fisici, come il sesso. Ma neanche il sesso, non credo, è un ingrediente indispensabile per essere felice. Logico. Non è indispensabile. E voi tutti che avete accesso al sesso, che siete sposati, potete confermarlo. Sì, ma accesso al sesso? Ma guarda, sentiamo testimonianza anche nella nostra chiesa di coppie che dormono separati e sono cristiani. Purtroppo, purtroppo sì. Capito, quindi dopo un po' ti rendi conto che è stato detto che il sesso è il 2% del matrimonio. Il matrimonio è un campo di missione. non di piacere. È un campo di missione. E ogni tanto, ok, c'è anche un po' di sesso, ma chi si sposa per il sesso ha capito male la situazione. Se non ti sposi per aiutare la moglie, per aiutare il marito, per renderlo felice, guarda, non ti sposare. Non ti sposare, mio marito mi farà felice. Dice, no cara, hai sbagliato. Voglio una moglie così che, perché una moglie che io possa amare e che mi cucina, mi lave i piatti, mi fa il bucato, mi stira e alla sera è la che mi aspetta. Ma tu hai bisogno di una serva, non di una moglie. Cioè è un campo di missione. Certo, ognuno ha le sue mansioni, è logico. Ma guarda che la moglie che è lì, oh mio mio adorato, presto, lascia che ti cucina, ti lave i piatti, permetti che ti lustro le scarpe. Ma guarda, ma né moglie né marito, non ce ne sono. Va bene, bisogna sposarsi con l'idea come posso rendere felice mia moglie. Gesù mostrami, Signore. Ho il marito, sempre pronto a chiedere scusa, sempre pronto a perdonare. A livello di finanziamento è facile imbrogliarci gli uni e gli altri. Lei si veste, si agghinda meglio di una di Hollywood. Lui il fusto della zona. Capito? Il bar migliore, l'aperitivo. Dice, oh eh, questo qui è l'uomo dei miei sogni. Ma invece poi ti sposi e scopri che è un disgraziato non meglio di te. Siete due senza speranza che avete disperatamente bisogno di Gesù. Amen. Comunque voglio dire, Daniele ha un bel atteggiamento perché sta cercando una donna con valori, una donna con un cuore profondo per Gesù e non come i giovani di oggi che solo pensano al divertimento. Devo dire... Questo è ammirabile. Guarda, devo dire, Daniele, caro Daniele, è meraviglioso avere fratelli come te. Da quello che vedo, dice, nel tuo cuore è nel posto giusto. Infatti tu stai dicendo, dici che non vuoi la solita fidanzata di oggi che oggi è in voga, che vogliono solo... Cioè, una volta erano gli uomini a cercare il senso, cioè sono le donne, forse anche più degli uomini. Cioè, abbiamo un mondo da incontrare, ragazzi. Poi le femministe che prendono gli uomini usa e getta, cioè il femminismo. Cioè, l'uomo è uno pupazzo, uno strumento. Invece no, l'uomo è il capofamiglia. Quindi, quante donne di Dio vorrebbero avere una sposa come te in un tempo in cui la carne è diventata un idolo? Comunque, guarda, ti assicuro però che ci sono donne e sorelle che cercano una sposa di Dio e non solamente sesso, come tu dici, ma vogliono un uomo di Dio. Ci sono. Il mio consiglio, e guarda, prega e aspetta e vedrai. Dio, prima o poi, se sei chiamato a sposarti, credo che lo sei, Dio ti farà incontrare una delle sue figlie. E ce ne sono. Perché possiate, insieme potete mettervi, mettere Gesù al primo posto, essere felici, no? Una cosa che lui chiede, Daniele, è come potessi avvicinare una ragazza in un modo cristiano e non nel modo del mondo. Questo Daniele dice, nel caso in cui avessi la possibilità di conoscere una ragazza cristiana di certi valori, innanzitutto chi cerca trova. Comunque la cosa migliore è andare a evangelizzare, evangelizzando troverai qualcuno, però non andare a evangelizzare per cercare la donna con la pila. Cioè, vai a evangelizzare per evangelizzare. Perché non dici, no, questa qui, o supera 50, non la evangelizzano. Cioè, evangelizza, fratello, perché Dio benedirà quello. Comunque non è difficile. Cioè, lui chiede come comportarsi una volta che incontra una ragazza, come comportarsi. Guarda, io ti do qualche consiglio veloce, va bene. Il primo consiglio è che lo sbaglio peggiore che puoi fare è cominciare col sesso, guarda. Questo è l'Ica Scalasi, no? Che poi ti attacchi al sesso, non a... Vai con... ti sposi una donna perché non puoi fare male al sesso. Magari non è la donna o l'uomo, sbagliato. Se la ragazza insiste sul sesso, e questo va anche per le donne con gli uomini che insistono sul sesso, non credo che sia la ragazza giusta. Beh, però anche in quel caso non mancare di guidarla a Gesù, anche se la ragazza ormai ha, diciamo, gusti rovinati, diciamo. Perché la donna giusta, se ti amasse, se veramente mettesse il Signore al primo posto, la donna giusta rispetterebbe al massimo il tuo desiderio di mantenerti integro per la donna giusta al momento giusto. Anzi, la donna giusta ti amerebbe anche di più. È vero, sì, sì, sì. Se una donna che ti molla perché non gli dai sesso è la donna sbagliata. È una donna da strada. D'agli indirizzo del porto di Genova vado a lavorare nei vicoli. Va bene? In Genova c'è una zona che si chiama i vicoli. Io so che evangelizzavo lì. Davo volantini lì. Cosa facevi lì? Evangelizzavo. Sono stato anche a Genova evangelizzare. Ai, ai, ai. O è Belin. Dicono così a Genova. Belin. Guarda, il secondo consiglio che ti do è che... Hai capito il primo consiglio intanto? Sì, sì, sì. Una donna che non gli dai... Ti dici sesso no prima. Anzi, andiamo a seguire il signore. Ti amerebbe di più. Sei quella giusta? È vero, sì. E se lei dice ho sesso o niente, guarda, per cortesia, pedalare e compregli una bicicletta. Guarda, secondo consiglio. La prova più grande che una donna è di Dio è quello che dovete crescere insieme. Siete come due bambini. Non giocarellate con le cose sessuali e sentimentali. Crescete in Gesù, va bene? Quindi, la prova più grande è di Dio, crescere insieme per Dio. Il modo più facile è di scoprirlo, va bene? E di impiegare il vostro tempo insieme. Insieme con la donna, insieme con l'uomo. Parlo fratelli, parlo le sorelle. Impiegate tempo insieme, va bene? Cioè, il tempo che impiegheresti insieme per motivi sessuali, investite quel tempo, invece di stare lì a tentarvi, tentarvi sessualmente. Sai cosa fai? Mi annoio, allora è così. Cioè, investite quel tempo, va bene? Per andare a evangelizzare, va bene? E il nostro materiale, se il nostro sito radio è a disposizione, gratis, scaricate e distribuite, va bene? E il matrimonio è tranquillo, ci penserà il Signore, va bene? E poi l'ultimo consiglio che posso darvi. Ho radunato tre consigli. E poi comunque c'è tutto un libro sul matrimonio, che ormai faremo audio, ma anche libro di carta, se riusciamo a stamparlo, se bastano i soldi a stamparlo, vedremo come la storia. Quello non lo so, però adesso sarà un libro su internet. E adesso vediamo. Però adesso com'è che lo fai? PDF, mi dicevo. Sì, PDF. E quindi si può legge, però. Sì, sì, su internet, sul telefono. Quindi, se per caso non crescete nel Signore, se non crescete in Dio, oppure la ragazza, il ragazzo, non è pronta, allora devi aspettare che la donna maturi, o che l'uomo maturi. Semplicemente non è una situazione creata da Dio per adesso, quindi se preghi, il Signore ti mostrerà certamente, quindi devi o rimandare, la donna non è pronta, o l'uomo. Oppure non è proprio la persona adatta. Perché oggi, ormai le donne, la maggioranza delle donne, cioè, vanno in discoteca, omosessuali, lesbiche, cioè, ormai praticamente, è come uno che si sveglia la mattina e si beve mezzo litro di zucchero, cioè, dopo un po' muore. Infatti, il mondo sta morendo. Cioè, la discoteca è un, è un posto satanico, cioè, la discoteca si va a far cosa? È un, sesso pervertito, donne che ci tolgono il reggisena, farsi vedere il seno nudo, cioè, cioè, praticamente, cioè, praticamente, una volta in cui quasi si chiamavano bordelli, adesso si chiama discoteca, statene lontano, non fatevi tentare, e non andate in discoteca a cercare, la ragazza per bene, non la troverete. Ci saranno anche, però sono vittime, vittime che devono convertirsi, cioè, che poi, in discoteca, hanno sesso nel, nel parcheggio della discoteca, lì, sesso veloce, e questa gente va a letto alla sera, più confusa di quando si è svegliata la mattina, d'accordo? E praticamente, il mondo ha rovinato tutto, il mondo sta, la creazione più bella del mondo, la creazione più bella di Dio, e l'essere umano, il diavolo sta rovinando tutto, con la sua omosessualità, perversione, lesbianismo, trans, cioè, state lontano dalla discoteca, ora, quindi, questi uomini, queste giovani donne, che escono dalle discoteche, sono pervertiti, praticamente, non puoi andare in discoteca, e uscire, senza essere pervertito, solo i pervertiti, vanno in discoteca, a meno che, non vuoi fuori discoteca, evangelizzare, però lì, sarebbe meglio, che vai a una squadra, robusta, perché escono, indemoniati, cioè, non è lavoro, per una ragazza singola, o due sorelle, c'è lavoro per, missionari veterani, però, io, io comunque, sconsiglio anche quello, guarda, la stessa gente, che va in discoteca, li trovate nei parchi, la mattina, sì, e li vedete, quelli che vanno in discoteca, li riconoscete, da cosa, Angela? Sono depressi, dall'atteggiamento, sono depressi, sono tristi, sono lì, con queste cuffie, nel loro mondo, cercano di ripassarsi la musica, dalla sera prima, della discoteca, li riconoscete, dalla depressione, perché la musica è una droga, la musica è una droga, infatti dice in, la storia di Lucifero, Isaia 14, Zacchiere 28, dice che, il diavolo era, un esperto di musica, va bene, e dice che il diavolo, è un esperto di musica, va bene, io, mi fermo qui, c'è altre domande? No, però vorrei leggere, un messaggio da parte di Carmela, una bella testimonianza, su come lei ha superato, questo problema del matrimonio, Carmela dice, carissimi fratelli, ci tenevo anche a dire, quello che, da un po' sta succedendo per me, per grazia di Dio, riguardo il trovare un compagno, ho sempre pregato per questo, e ho sentito sempre, una inspiegabile solitudine oppressiva, adesso ho 50 anni, e mi è stato impedito, di realizzarmi come donna, e pregavo tanto al Signore, di darmi un compagno, una famiglia, eccetera, ma non è successo, invece, da un po' di tempo fa, da qualche mese, mi sono resa conto, che non sento più, la mancanza di un compagno, anzi, non prego più per questo, adesso mi sarebbe anche, di intralcio, per come sono impegnata con Gesù, e con la mia nuova vita in Cristo, e ho chiesto spiegazioni al Signore, e mi ha risposto attraverso, i programmi alla radio, quando si parlava di questo, ho sentito sia Dora, che Angela e fratello Giuseppe, raccontare le loro esperienze, a riguardo, e ho capito, che se è nel progetto di Dio, che io abbia un compagno, sarà quando entrambi saremo pronti, secondo la volontà di Dio, l'esperienza mi ha insegnato, che tutto deve essere, secondo la volontà di Dio, e non ci saranno brutte sorprese, vi ho scritto questo, perché sento spesso, fratelli e sorelle, che chiedono preghiera, per trovare un compagno, una compagna, e a me è scomparsa del tutto, il sentire la solitudine oppressiva, che mi angosciava, e intristava, e non mi fa più neanche invidia, vedere le coppie felici, e innamorati, adesso sorrido, e penso, se hanno Gesù nel cuore, prega per loro, che Dio vi benedica, carissimi fratelli, Carmela, sì, il modo per non invidiare gli altri, pregare per loro, il modo per non odiare i nemici, prega per loro, la preghiera blocca l'invidia, blocca la gelosia, blocca la depressione, la preghiera ragazzi, è un'arma potente, senza preghiera, non puoi essere un uomo di Dio, non puoi vincere il diavolo, non puoi crescere in Cristo, non puoi camminare nella felicità, nella libertà, la preghiera, il diavolo naturalmente ha messo le sue imitazioni, le preghiere tipo rosario, tipo ripetizioni, pappagallo, la gente lo fa con spirito di sacrificio, invece la preghiera deve essere, è uno strumento, uno strumento per farti camminare in gioia, in libertà, in allegria, questa è la preghiera, se la preghiera non è allegra, che ti muove, che gioisci nel pregare, e loro non è la vera preghiera, la preghiera non ha limiti minimi o massimi, la preghiera deve uscire da sola, non è premeditata la preghiera, per questo che queste preghiere zombie, robotiche, ripeti questa preghiera, preghiera 10 alla Maria, alla Madonna, se sono anticristo, perché la Madonna, nella Bibbia, nessuno ha mai pregato, cioè vedi, Atti capitolo 1, Maria e le donne erano lì, insieme agli apostoli, e pregavano, gli apostoli non erano lì a baciare la statua della Madonna, va bene? Quindi la vera Maria era una discepola, preziosissima, ma non deve essere adorata, adora Dio, quindi attenzione alle preghiere false, va bene? Amen, grazie Gesù. di pregare fratelli, la preghiera ti libera, nel nome di Gesù Cristo, Amen. Amen. Ti leggo un'altra testimonianza, arrivata adesso, dieci minuti fa, su questo soggetto, è da parte di Chiara, e dice, non so se sono in tempo per comunicare in diretta, sì sei in tempo Chiara, ma in ogni caso fratelli, la penso come voi, io personalmente ho chiesto a Gesù, di colmare con il suo amore, la mia solitudine, e di non darmi uno spirito di impazienza, o di attesa, ma di fiducia, e poi gli ho chiesto di farmi conoscere la profondità del suo amore, che non conoscevo. Il risultato? Non cerco più un uomo per sposarmi, o sto in ansia per l'attesa, ma sono beata nel suo amore, in cui non manco di nulla. Non ho la verità in mano, ma almeno non sono più nell'angoscia della ricerca, ma sono in pace, e mi godo l'amore di Gesù, e quando penso al matrimonio, ringrazio Gesù che mi fa già sentire sua. Sembra assurdo, ma da Lui io mi sento veramente amata, e nessuno potrebbe amarmi più di Lui, nessuno avrebbe da parte mia una tale stima. Già faccio fatica a fidarmi, figuriamoci da un uomo, che per natura siamo entrambi fallibili. Meglio l'amore di Gesù, autentico, profondo e vero. Vi amo immensamente vostra Chiara. Io ti benedico, sorellina. Bellissimo. Dolce. Bellissimo messaggio, grazie Chiara. E fratelli e sorelline preziosi che abbiamo, ti ringrazio Gesù, ci hai benedetto così tanto, Signore. Grazie, Signore. E proprio come dice in Salmo 23, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, in Cristo non ci manca nulla. Con Lui siamo completi. Colossesi 2.10 dice quello. In inglese dice, you are complete in Him. E tu sei completo in Lui. E in Nuova Riveduta dice, Lui voi avete tutto pienamente. Grazie, Signore. Colossesi 2.10. Ed è vero, è così. Grazie, Signore. Amen. E ti benedica, Chiara. Un abbraccio. Gloria, Signore. Grazie per la tua testimonianza. Amen. Amen. Amen.